Ti sei mai chiesto se un investimento di solo un dollaro potrebbe cambiare il tuo futuro finanziario? Beh, potresti ringraziarmi se spendi un solo dollaro per comprare Bitcoin. Sembra incredibile, ma il valore di Bitcoin è stato previsto da esperti come DaVinci J già nel 2013. E ora c'è un nuovo consiglio da seguire. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. DaVinci J, che ha consigliato di acquistare Bitcoin quando valeva pochissimo, ora sta puntando su una nuova criptovaluta. Questa volta è una moneta meme chiamata Pepe. Se sei scettico riguardo al mondo delle criptovalute, capisco, ma se vuoi veramente costruire una ricchezza futura, potresti considerare di investire un solo dollaro in Bitcoin e vedere come si sviluppa. DaVinci J è diventato ambasciatore del progetto Pepe, una moneta meme che sta guadagnando popolarità. Ha parlato spesso di Pepe nei suoi video e ha investito personalmente una somma significativa. Questo progetto è interessante non solo per il suo legame con il famoso meme Pepe the Frog, ma anche perché punta al mercato cinese, un'area con un enorme potenziale di crescita per le criptovalute. Pepe ha una fornitura totale di 420 trilioni di token, senza tasse di acquisto o vendita, ed è disponibile su diversi exchange come Uniswap, Mexc, Gate.io, Bitmart e Bybit. Bybit, in particolare, è l'exchange consigliato per la negoziazione di Pepe. DaVinci J crede che Pepe possa raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Attualmente è intorno ai 150 milioni di dollari, quindi questa previsione sembra ambiziosa ma non impossibile, considerando il recente slancio. Anche altri influencer nel mondo delle criptovalute, come Randy CryptoBunter, hanno espresso interesse per Pepe, elogiando la sua capacità di mantenere il prezzo e aumentare il numero di detentori. Se stai cercando di diversificare il tuo portafoglio con un investimento in una moneta meme, Pepe potrebbe essere un'opzione interessante. Se ti piace la narrativa dei meme, il mercato cinese, e l'associazione con influencer, Pepe ha molti punti a suo favore. Ricorda sempre di fare le tue ricerche prima di investire. Detto questo, grazie per aver guardato il video e fino alla prossima volta. Per quanto riguarda Bitcoin, prevedo che potrebbe scendere a circa 26 mila dollari nei prossimi sei mesi prima di risalire nel corso dei prossimi tre anni. Tuttavia, imprevisti come eventi di mercato straordinari potrebbero cambiare questa previsione. Se ti è piaciuto questo video, per favore valuta positivamente e spero che tu abbia una buona giornata. Detto questo, grazie per averci seguito fino a questo punto. Non sprecare il prossimo volo cripto. Grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non sprecarvi una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver guardato il video.